Tutto a regolare, nessuno si è posto prima, Carmellino, Morganti, Cappella in prima fila, Zerolo in seconda, Zerolo subito all'esterno, con il 60, va ad incrociare, non i sociali linee, deve rimanere largo, Torcanti con 40, Maurizio Morganti, gogge, Zerolo, 15, Corpetti, Corpolini sesto, poi ancora Sordini, attacca di Carmellino, Un'esterno particolarmente dura, ha avuto la meglio Carmellino, ma Zerolo è completamente sull'esterno, anche Torcino ha dei grossi problemi, Bocco Bocco, basta, ma va all'esterno, più per questa che rimane in buona posizione, e adesso andiamo a vedere come funziona l'avanzo, con 40 in prima posizione, Maurizio Morganti, in seconda posizione con 70, e poi un po' di vuoto, con 74 a destra, la curda è a destra, e l'elezione vada a sinistra, intanto passa Maurizio Morganti in prima posizione, per questo tempo giurisciato in questa finale di 12 a 2, anche il posto che si ferma, una vacca, non c'è un po' di vuoto, con il posto che si ferma, non c'è un po', ma nulla di preoccupanza in città, con 1 al 74, la sua lenta e si ritira anche lui, con Garnello e Morganti, ma i due piloti non possono uscire per andare in palco, Le vetture dovranno essere trasportate, il parco di bene, la prima traiettoria, anche la seconda, davanti, tutto il rimanguagliato. Onoregatts-Autrenta col 40% primo, Carmillino col 70% secondo, Marac Grazie a tutti. Grazie a tutti.